C'è stato il testa a testa, si può dire che abbiamo vinto entrambi e io sono contento e spero che alla fine lavoreremo insieme. Abbiamo riproposto questa alleanza che ha avuto la capacità di allargarsi in maniera significativa. Ancora non aveva mai avuto un sindaco di centrodestra, nei Brindisi è una città della regione del presidente Emiliano, sembrava quasi impossibile. Abbiamo vinto in entrambe le città perché i candidati di Forza Italia hanno avuto la grande capacità di allargare il centrodestra, le liste civiche, andando a recuperare consensi al centro. Abbiamo vinta di pochissimo, l'abbiamo vinta contro tutti e contro tutti, contro una coalizione di controparte un po' abnorme fatta dalla candidata sindaca di centrosinistra e da parte del centrodestra. Non ci siamo snaturati, abbiamo continuato a mantenere il nostro stile, la nostra voglia di raccontare la mola che immaginiamo per i prossimi cinque anni. Sentiamo la responsabilità di costruzione di un campo che credibilmente contenda alla destra la vittoria, ma è una responsabilità che non riguarda soltanto il Partito Democratico. Adesso si riparte da dove abbiamo interrotto. Il Paese ha premiato un discorso fatto sulle idee, sui programmi e sull'importanza della continuità. Mi sembra che l'avventura del civismo non abbia dato grandi risultati, anzi, quindi cerchiamo all'interno delle forze coerenti della maggioranza e delle forze di maggioranza. A tutti coloro che non hanno mai voltato la testa davanti alle ingiustizie, a tutti coloro che hanno sempre avuto un momento per stare accanto a chi era indietro e a chi era fragile, a loro va il mio ringraziamento e il mio pensiero. Eccoci qua, buonasera, buonasera, benvenuti e bentornati al labirinti, 199esima puntata in rigorosa diretta, in diretta sul 14. Siamo ripartiti da David Bowie, da Starman, dagli Uomini delle Stelle, alcuni di loro hanno già indossato la fascia, altri lo faranno nei prossimi giorni, nelle prossime ore. In questo che è una sorta di lungo day after dei ballottaggi, è tale per almeno tre motivi, intanto perché oggi si sono insediati Vita Antonio Petronella ad Altamura, Angela Antonio Angarano a Biceglie, perché proprio oggi sulle alleanze del secondo turno dei ballottaggi Francesco Lanotte formalizza l'uscita dalla maggioranza di Michele Emiliano per approdare per il momento del misto. Poi chissà perché Francesco Paolo Sisto questa mattina ha presentato la nuova governance di Forza Italia, provando a traguardare il partito, ma di fatti anche il centrodestra, al prossimo appuntamento con le urne del 2024, provando già a sparigliare dicendo il candidato meglio se sia un politico, perché conoscono meglio il territorio e il software. E allora quanto basta per tornare in prima serata, per tornare in diretta, colpo d'occhio, così salutiamo un pezzo di parterre che ci accompagna, intanto per fargli auguri al neosindaco di Acquaviva, Marco Lenoci, quasi sindaco perché si insedia venerdì. Sì, quasi sindaco. Ben trovato, intanto congratulazioni. Grazie. Che emozioni le ha fatto rivedere quelle immagini? Beh, mi sono rivisto abbastanza a stravolto, non mi rendevo conto delle condizioni in cui ero al momento della vittoria. Sfinito ma felice ha detto. Sfinito ma felice, lo confermo, è assolutamente così. Dalle immagini mi sono reso conto di quanto ero sfinito, non l'avevo ancora capito. E tra un po' le chiedo in questi sette giorni che cosa sia cambiato, lei ha già messo mani alla maggioranza, li sta incontrando, la prima sfida è sempre quella della Giunta, ne sa qualcosa Fabio Romito, consigliere regionale Quota Lega, ben trovato, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti, auguri ai sindaci neoeletti, auguri doppi al mio amico Marco Lenoci che ha fatto e ha ottenuto un risultato straordinario ad Acquaviva. Esattamente, un anno fa, se non sbaglio lo otteneva anche Raimondo Innamorato, era un anno fa? Due. Due, ma come vuole al tempo quando si sta bene, Raimondo Innamorato che torna in questi studi da coordinatore dei pentastellati metropolitani, ben trovato sindaco, grazie per essere con noi. Buonasera e faccio anch'io l'augurio ai sindaci neoeletti e in questo caso per par condicio saluto e faccio l'augurio a Giuseppe Colonna, rieletto sindaco Amola di Baccia. Infatti ci ha spoilerato la presentazione perché torna con noi sindaco bis della sua Amola Colonna, lei è stato il primo, credo, del secondo turno a essere proclamato martedì sera, era già in piazza con i suoi. Praticamente sì, mi è arrivata la notizia della proclamazione mentre festeggevamo la vittoria elettorale, la commissione elettorale è stata particolarmente rapida e quindi non abbiamo perso tempo e ci siamo rimessi, non direi rimessi, diciamo abbiamo continuato a lavorare perché non ci siamo mai fermati. Se l'aspettava così sul filo di lana? Beh un po' sì perché fra primo turno e ballottaggio davvero è successo un po' di tutto a Mola, siamo anche arrivati sulla ribalta nazionale per alcune scelte di alcuni candidati sindaci e quindi avevamo praticamente tutti i conti. Ne sa qualcosa il collega, tra un po' chiederemo di quello che è stato un endorsement contestatissimo dagli stati generali del Movimento e allora io vado a salutare il nostro Davide Cucinelli a Brindisi perché questo non è soltanto il primo giorno di scuola dei primi cittadini è il primo giorno di scuola delle maggioranze a Brindisi stasera, c'è in corso un vertice del centrodestra. Buonasera Davide e congratulazioni al tuo ospite che è il primo degli eletti nel capoluogo messapico. Sì Antonio siamo con Gianluca Quarta di Forza Italia che vanta 1300 voti conquistati come primo, come dicevi tu, degli eletti per la città di Brindisi, un risultato importante, si dicevamo sono ore di confronto ovviamente per la composizione della giunta, fra poco cercheremo di fare il punto anche da questo punto di vista ma è anche un momento importante per toccare i primi temi fondamentali per questa città, l'abbiamo fatto anche poche ore fa con il sindaco di Brindisi, il neosindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna che fra poco sentiremo nelle sue dichiarazioni, intanto chiedo ovviamente a Gianluca Quarta che campagna elettorale è stata e come sono questi giorni post elezione. Buonasera a tutti innanzitutto, è stata una campagna elettorale molto difficile perché è stata una campagna elettorale molto veloce, perché in pochissimo tempo ci siamo ritrovati a dover lavorare per portare a casa questo risultato, sono state ore un po' più tranquille perché abbiamo lasciato il nuovo sindaco Pino Marchionna lavorare in maniera tranquilla e poi nelle prossime ore inizierà tutto quello che saranno i primi incontri per quanto riguarda la formazione della nuova giunta. Da dove si parte? Temi sicuramente importanti, il primo è quello del bilancio previsionale che scadrà con deroga il 20 luglio, ci diceva il sindaco Marchionna, fra poco come dicevo lo sentiremo, sentiremo che ci sarà un'interlocuzione con il governo per provare a trovare anche una soluzione di sistema ai comuni in predissesto, è sicuramente una delle priorità. Sicuramente quella del bilancio è la prima sfida che ci apprestiamo ad affrontare perché purtroppo come molti avranno avuto modo di sapere Brindisi è in una situazione di predissesto e quindi da lì quella sarà la base di partenza per poi poter costruire tutta una serie di progetti intorno alla città. Quindi partiamo da lì e poi ci saranno tante tematiche da affrontare, che sarà quella ovviamente del palazzetto, ci saranno le problematiche dello stadio, soprattutto dello stadio per quello che ci riguarda è una forma imminente, poi ci sono tutta una serie di opportunità che ci aspettano, che sono quello anche di sfruttare i fondi PNRR, quindi ci saranno una serie di delibere e di atti di indirizzo di giunta da fare, quindi il lavoro è tanto. Prima Antonio di chiederti se ci sono domande da studio, ti faccio un po' il punto per quello che dicevamo prima, ovviamente indiscrezioni, come dicevamo le interlocuzioni sono in corso, la giunta, come ci ha detto il sindaco Marchionna, potrebbe arrivare nel giro di una settimana, dieci giorni, dovrebbero essere otto gli assessori, tre potrebbero essere proprio per Forza Italia, che è stato anche il primo partito di coalizione, due per Fratelli d'Italia, che dovrebbe esprimere anche il vice sindaco, e uno a testa per Lega, Casa dei Moderati e la lista civica del sindaco Marchionna, mentre la presidenza del Consiglio Comunale dovrebbe andare al partito repubblicano. Queste le prime indiscrezioni, non chiedo conferma ovviamente a Gianluca Quarta, ma chiedo quale potrebbe essere il contributo di Quarta nella prossima giunta. Beh, noi ci fidiamo ciecamente di quello che è il lavoro del nostro riferimento politico, che ovviamente l'onorevole Datis ha svolto già. Pensavo dicevi del sottoscritto, però va bene anche l'onorevole Datis. Le indiscrezioni del nostro Davide. L'onorevole Datis che ha saputo mettere in piedi una coalizione davvero importante, quindi abbiamo fatto davvero un bel campo largo, quindi abbiamo incluso diverse forze fino ad azione, quindi siamo sicuri, ha lavorato benissimo l'onorevole Datis in questi mesi e saprà perfettamente confrontarsi per quello che ci riguarda con il sindaco Marchionna per trovare la sintesi per le caselle più giuste dove poter inserire i nostri consiglieri comunali o i tecnici. Ancora purtroppo non è dato sapere nulla. Ecco Antonio, vi sente Gianluca Quarta, quindi do la parola anche a te. Oggi è stato il primo giorno di lavoro del sindaco che ha inaugurato con la riunione sullo stadio, sul dormitorio provinciale, sulla provinciale San Vito e sul welfare. E voi avete il primo nodo in ordine di tempo che è deposito gas naturale liquido per il quale bisogna decidere sul ricorso. Lì che tempi ci stiamo dando per decidere? Beh i tempi devono essere necessariamente ristretti, perché così come hanno anticipato già il sindaco Marchionna cercheremo immediatamente di fare l'aggiunta. Una volta fatta l'aggiunta si affronteranno tutte le tematiche e le problematiche. Noi dovremmo essere veloci perché in ultimo bisogna anche organizzare la stagione estiva per quanto riguarda gli eventi. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche più importanti, meno importanti da affrontare. Quindi cercheremo immediatamente di metterci al lavoro nel minor tempo possibile. Io credo che nell'arco già di una trentina di giorni riusciremo a venire a capo di una serie di situazioni che abbiamo anche avuto in eredità. Consigliere, una domanda a una, perché poi qui abbiamo anche il post-voto che guarda al Comune di Bari alla tornata 2024. Intanto se ci può confermare l'assetto dell'aggiunta con il vice a Fratelli d'Italia per quello che ci è dato sapere. Ma soprattutto, qui c'è il consigliere regionale Romito, dovesse raccontare al centrodestra il modello brindisi. Come lo racconterebbe? Cioè esiste un modello brindisi che si può esportare per il centrodestra? Beh sicuramente, per quanto riguarda la composizione dell'aggiunta, io non ho notizie per quanto riguarda i ruoli. Quindi purtroppo non vi posso confermare niente perché non sono a conoscenza di niente. Però sicuramente il modello brindisi è possibile esportarlo perché come vi ho detto già prima, noi siamo andati oltre gli steccati normali di quello che era il perimetro del centrodestra, abbiamo allargato fino ad Azione, quindi abbiamo coinvolto anche il consigliere regionale Amati, quindi abbiamo fatto un lavoro, credo, abbastanza positivo. È quello che mi sento di dire in questo momento. Cioè il consiglio che mi sento di dare a tutti è quello di raccogliere intorno a sé le forze che hanno davvero voglia di lavorare e sempre cercare il miglior candidato sindaco sul territorio. Noi in questo caso siamo andati oltre, abbiamo scelto Pino Marchionna, quindi non ci siamo posti questioni ideologiche, ma abbiamo scelto la migliore persona disponibile in questo momento. Va benissimo, grazie consigliere, in bocca al lupo a lei per l'avventura alla quale si affaccia, ma tanto conosce bene di che si parla perché ha presidiato il consiglio già tempo addietro. Grazie al nostro Davide e chiaramente vi faremo ascoltare nel prossimo blocco l'intervista, la prima intervista a Pino Marchionna tra pochissimo. Intanto grazie Davide, grazie consigliere, che consegniamo la riunione di maggioranza. Grazie a voi. Tanto c'è ancora da costruire, buon lavoro intanto. Grazie, grazie, buona serata. Che gliene pare? Come l'avete letto voi il dato a distanza di sette giorni dal secondo turno? Un dato assolutamente positivo per il centrodestra. Brindisi è stato un modello importante dove i segretari regionali dei partiti hanno lavorato bene, hanno cercato il miglior candidato sindaco, hanno trovato un'intesa, hanno allargato, hanno fatto tutto quello che il centrodestra dovrebbe fare, cioè guardare ai moderati e cercare di mettere insieme la casa del centrodestra e la casa di ogni cittadino che non si sente rappresentato per esempio dal segretario del PD, dalla segretaria Elie Schlein a cui io auguro altri vent'anni di segreteria del Partito Democratico, perché questo per quanto ci riguarda è un'assicurazione perlomeno di poter far comprendere alla gente da che lato si vuole stare. O ci sta dalla parte di Elie Schlein e di quel Partito Democratico, molto poco moderato e invece assolutamente oltransista su alcune posizioni, dall'altro lato invece c'è il campo dei moderati che è il nostro campo naturale. Questo dobbiamo essere in grado di farlo a partire da Bari, che è la madre di tutte le battaglie, ci stiamo arrivando, maggio 2024, è dietro la Bari. Un attimo, e allora gliene chiedo tra un attimo, la Lega invece nello specifico come l'ha letta questa tornata? Perché avevate il simbolo a Biceglie, a Brindisi, nel Barese, non ovunque, però ad Altamura c'eravate, ad Acquaviva c'eravate. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, cioè quella di mettere nelle condizioni i gruppi locali, di esprimersi al meglio. Questo vuol dire, come ho detto prima, calarsi nelle singole realtà locali, perché ci sono delle realtà dove dei progetti che hanno guardato ad un civismo più marcatamente politico hanno funzionato, ci sono stati altri casi invece in cui la gente ha preferito esporsi con il simbolo. Per quanto ci riguarda la cosa importante è comprendere qual è il campo in cui giocare, soprattutto quando arrivi alla partita, già che stiamo facendo i paragoni sportivi, quando hai fatto i compiti a casa e li hai fatti bene, cioè quando hai dialogato prima, hai costruito una maggioranza, hai costruito un programma e sei riuscito a fare sintesi. L'esperimento di Brindisi, così come l'esperimento di Acquaviva, ci confermano la bontà di questo progetto, cioè quando il centrodestra fa bene i compiti a casa e non commette gli errori che invece per esempio noi a Bari abbiamo commesso per 20 anni, i cittadini ti premiano. Quando pensi invece di fare degli esperimenti tipo Frankenstein, è evidente che la gente ti gira le spalle, ti volta le spalle. Ora, noi abbiamo una responsabilità straordinaria, perché dopo 20 anni si chiude un ciclo, quello del centro-sinistra, che ha cominciato con Michele Emiliano ed è finito con Antonio De Caro, che non può ricandidarsi. Vediamo se abbiamo la grafica così, in qualche misura si autolancia anche i contributi, ce l'abbiamo la grafica dell'intervista a Filippo Melchiorre, che dice esattamente quello, si è chiuso un ciclo, eccolo qua, è arrivato il ciclo del centrodestra, De Caro ha finito. Siamo in grande sintonia con Filippo, così come siamo in grande sintonia con il segretario di Forza Italia, con tutti i movimenti civici moderati che già si stanno affacciando per dimostrare la propria voglia di essere in campo nella partita delle partite. Noi stiamo raccogliando da adesso le adesioni per la candidatura ai consigli comunali e devo dire che un entusiasmo come questo, io non lo ricordo da che ero ragazzino, un clima bellissimo che si respira a Bari, lo abbiamo respirato, ripeto, a Brindisi, lo abbiamo respirato ad Acquaviva, io ero accanto a Marco in quei filmati, perché lì c'è tutto lo spirito del centrodestra, resiliente, che vuole dire la sua, che non ci sta alle rendite di posizione, che intende esprimere con chiarezza, ma con grande senso del dialogo, le proprie posizioni. Questo è quello che noi dobbiamo essere in grado di fare, di qui, lo ripeto, a pochi giorni, perché dovremo arrivare con un candidato sindaco, spero prima della fiera del Levante, lo diciamo sempre, però spero che questo sia la volta buona, i partiti da parte loro hanno tutta la buona volontà, noi anche, i cittadini ci stanno aspettando, quindi aspettateci perché non voglio dire come la segretaria del PD non ci hanno visto arrivare perché stavolta credo che non l'abbiano vista davvero, noi utilizzeremo delle altre citazioni, col tempo man mano che mi verranno gliele sottoporrò. E noi qui staremo ad attendere queste preziose citazioni, però candidato entro alla fiera è già titolo. È un auspicio, è un grande, è un auspicio ed è l'obiettivo che noi dobbiamo tendere. Di solito per prendere tempo si dice ci sentiamo dopo la fiera, ma io invece ho fatto pesce, ci vediamo prima, così come dice, se non ci sentiamo auguri di Natale, auguri per un buon Natale, io sto cercando di anticipare. Tra poco le devo chiedere della roadmap tracciata dal vice ministro Sisto questa mattina che dice candidato politico meglio che pescato dalla società civile, ha detto basta avventure, vediamo se funziona anche dall'altra parte, non è con il campo largo che si batte Giorgia Meloni. Così Giuseppe Conte ha l'acchiosa di questa tornata, quella è la linea nazionale, voi sui territori siete già ripartiti con i gruppi territoriali. Colpo d'occhio su questa tornata che non le si può addebitare in toto perché lei si è insediato da coordinatore in itinere. Però diciamo proprio questo, che la riorganizzazione del movimento è partita praticamente a febbraio. Abbiamo trovato gruppi che fino a poco tempo fa si autogestivano e che necessitavano di una guida. Questo lo abbiamo compreso anche con il Consiglio nazionale, il nuovo corso del Presidente Conte di fatto introduce proprio la struttura, la struttura che prevede un coordinamento regionale così come il provinciale. Devo dire che proprio questo notavo. È successo a Moa di Bari, è successo ad Acquaviva, è successo un po' dappertutto. Lì dove abbiamo, avevamo, abbiamo perso dei consiglieri comunali uscenti, che magari erano isolati, che non avevano un gruppo e che magari hanno provato a raccimolare candidati che non provenivano di fatto dal Movimento 5 Stelle, che provenivano dalla società civile e che non hanno fatto il percorso che per esempio ha fatto il gruppo di Noi Cattaro, io lo cito come esempio non per autocelebrarmi, ma perché effettivamente è un gruppo che lavora sul territorio dal 2012 ed è quello che dice Giuseppe Conte in buona sostanza. Il Presidente prevede questo per il futuro prossimo. La presenza sul territorio, l'ascolto della cittadinanza, forse non a caso ha segnato ad un sindaco il compito di coordinare la provincia di Bari perché effettivamente è necessario comprendere come meglio recepire queste istanze, queste esigenze. E lo possiamo fare con i gruppi territoriali. Sono partiti già i primi, noi Cattaro e Trigiano abbiamo mandato l'istanza di approvazione per Bari-Città perché effettivamente anche noi, come diceva il consigliere regionale, siamo a lavoro con, lo devo dire, un riferimento importante, ossia quello dei consiglieri comunali uscenti, quello dei consiglieri municipali con i quali ci stiamo confrontando, abbiamo già avuto due incontri, in questa settimana definiamo alcuni aspetti. Perché si possa... Quindi che tempi ci sono perché anche Bari abbia il gruppo territoriale? Perché poi dall'inpo si potrà cominciare... Questo credo forse entro la fine di questa settimana, massimo inizio dalla prossima, perché ho visto che le istanze vengono approvate, chiaramente dopo una visualizzazione del coordinamento, a pochi giorni. Sono le primissime istanze, quindi i tempi non sono lunghi. Comunque il regolamento prevede entro 30 giorni in caso di silenzio, silenzio assenso, quindi massimo passeranno 30 giorni, ma non sarà così per il gruppo di Bari, voglio tranquillizzare tutti gli attivisti, tantissimi, 150. Perché prima dei 30 giorni, ma adesso abbiamo la grafica anche sul vicepresidente Turco, così per par condicio diamo anche una grafica. Eccolo qua, Turco, sia le alleanze, ma niente primarie per il sindaco di Bari. Adesso noi non aspetteremo mica 30 giorni. La linea nazionale del movimento è che primarie non se ne fanno. Sì, ecco, le primarie prevedono sì la consultazione democratica della cittadinanza, ecco, dell'elettorato. Però, ecco, prima di parlare di primarie, noi dobbiamo capire quali sono i temi. Dobbiamo capire se si può convergere, se si possa convergere su determinate tematiche da affrontare. Non si può parlare di alleanza strutturale, non si può parlare di coalizione, non si può parlare, permettetemi, lo dico non per contestare quello che diceva il consigliere Romito, ma perché quando si cita il campo largo, quando si cita la ricetta vincente, che magari fa vincere perché si allarga, e non di poco lo spettro, ma bisogna governare, bisogna garantire la compattezza, la solidità dell'amministrazione comunale. Perché poi, quando si allarga troppo, quando si va molto oltre, come dire, l'intento e la rappresentanza, anche politica e di animo politico, si rischia... Il senso è, noi a segni in bianco non ne firmiamo, sediamoci, capiamo che cosa stiamo costruendo e poi deciderà anche il movimento. La convergenza deve essere trovata in primis sui temi e sui programmi. Se su quello ci allineiamo, probabilmente possiamo correre assieme. Diversamente non si sceglie un uomo... Anche le porte di Bari-Città saranno chiuse ed è già il secondo... Oggi il coordinatore metropolitano ci ha dato una bellissima notizia perché se da oggi escludiamo o proviamo ad escludere l'idea del campo largo che è quello vostro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, per quanto ci riguarda... Ha detto che lo escludiamo. Ho detto che andare molto oltre... No, no, io la prendevo positivamente. Non era un'accusa. Anzi, noi siamo pronti a dialogare con il Movimento 5 Stelle perché i vostri consiglieri comunali sono gran brave persone, io li conosco personalmente. Se voi non avete delle preclusioni a prescindere, e anzi, oggi stiamo ascoltando che il campo largo non è un valore, e io sono d'accordissimo con il sindaco... La linea è che non lo date per scontato. Non ho detto che il campo largo non è un valore, ho detto che il campo... Esatto, il campo largo diventa un valore se ci si ritrova nelle tematiche e nei programmi. Non bisogna allargare per fare numero, per avere percentuale, per vincere. Ora, avremmo minimo di difficoltà, non voglio stemperare l'entusiasmo... E' chiaro che, come diceva Giuseppe Conte, il nostro interlocutore privilegiato è sempre il Partito Democratico o comunque il civismo di sinistra. Siamo antagonisti, lo diciamo, alle forze di destra. Però, ecco, vogliamo... Prima di parlare di colore... Chiarissimo, non ci date per scontati perché noi ci vogliamo sedere... No, 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 vogliamo parlare di programmi, di temi di quello che serve ai cittadini baresi nel caso di Bari 2024. Chiarissimo! Prima di andare in pubblicità, lei ha un paese diviso in due. Queste sono le parole di Francesco Pistilli quando ha scelto di non siglare nessun apparentamento. Lei ha detto, poi, sotto traccia, si capiva che giocasse di sponda all'altra parte. Resta il dato di fatto. Un paese diviso in due al sindaco spetta a pacificare. Al sindaco certamente spetta a pacificare e sarà uno dei miei obiettivi. Però il paese è diviso in due ma fino ad un certo punto perché il primo turno ci ha dato un dato un pochino differente. Cioè il 37% delle preferenze ha il 38% al centro-sinistra, il 37% al centro-destra rappresentato da me e un altro 20% rappresentato da Francesco Pistilli. Per cui il paese ha dimostrato di essere in gran parte di centro-destra. Poi tra il primo e il secondo turno è accaduto qualcosa di un pochino particolare cioè che Francesco Pistilli ha spaccato la sua fetta di centro-destra portandosene una parte verso il centro-sinistra e questo ci ha restituito all'esito del ballottaggio un paese all'apparenza diviso in due. Ma se volessimo confrontare questo dato con quello del primo turno il suffragio del centro-destra è di molto maggiore a quello che è il centro-sinistra. Per cui se non ci fosse stata questa strana convergenza dei candidati di Francesco Pistilli verso il centro-sinistra avremmo avuto un risultato completamente diverso un distacco ben maggiore di almeno 1.500 voti. Per cui rimane questo dato di fatto ma da interpretare. Poi tra un attimo le chiedo anche se i rumors le dicano di ipotesi di riconteggio o meno glielo chiedo tra un attimo state con noi anche perché abbiamo da citare il primo identikit su Bari-Città da chiederne a Lumia Romito da collega di coalizione poi ci sarà un avvicendamento su quella poltrona insomma tanto deve ancora accadere state con noi. Eccoci qua di nuovo insieme puntata 199 di Labirinti il che ci racconta che siamo ad un passo alla vigilia della puntata delle 200 ma soprattutto che questa è una puntata speciale che stiamo dedicando al racconto di chi ha già indossato la fascia alle attese di chi sta per farlo sarà il riconteggio in quel di Acquaviva? Probabilmente no si parla di riconteggio ma è un'ipotesi abbastanza remota perché la commissione vi ha già dato? La commissione filtra che non ci siano irregolarità per cui quella del riconteggio ripeto è un'ipotesi ma è abbastanza remota. Intanto ha già incontrato la maggioranza sta già lavorando alla Giunta ha chiesto datemi una terna di nomi ciascuno e io da quella decido. Ho chiesto una terna di nomi diciamo che ci stiamo lavorando siamo a buon punto siamo a buon punto non abbiamo concluso ma siamo a buon punto Siamo a buon punto vuol dire che sta ipotizzando di varare l'esecutivo? Sto ipotizzando di varare l'esecutivo immediatamente dopo la proclamazione che dovrebbe essere venerdì. Beh questa è già un'altra notizia perché vuol dire squadra entro la prossima settimana lei in realtà non è nuovissima ha fatto tre anni da consigliere in un'altra legisola però farlo con la fascia come l'ha vista cambiare la città, l'assemblea adesso avete anche un'aula nuova ma questo è... Abbiamo un'aula nuova che diciamo è abbastanza più carina così ristrutturata però la città non è cambiata tantissimo se non è cambiata un pochino in peggio nel senso che non ho visto grossi risultati da questi ultimi tredici anni di amministrazione di centro-sinistra questo mi ha spinto anche a... è uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi a rituffarmi in politica Chiarissimo l'altra volta la gestazione del suo di esecutivo fu parecchio travagliata stavolta promette di essere... Beh siamo al secondo mandato quindi credo sia assolutamente naturale dare un'impronta anche più politica dovuto anche al fatto che la nostra coalizione di sette movimenti di sei movimenti civici più il partito democratico ha avuto diciamo una rappresentanza in consiglio comunale particolarmente vasta di questo sono molto orgoglioso perché tutte le liste a sostegno della mia candidatura avranno una rappresentanza in consiglio comunale e questo ci consentirà non solo di sviluppare un'azione amministrativa che nel segno della continuità continui a portare avanti quei progetti di cui muore il protagonista e magari si arricchisca di quelli che sono naturalmente gli apporti di coloro i quali sono entrati nella coalizione ma allo stesso tempo ci consenta di avere anche un'azione politica intesa nel senso più lato particolarmente efficace sul nostro territorio su questo credo sono abbastanza fiducioso perché l'esperienza sul campo di cinque anni di gran parte dei nostri consiglieri alcuni sono alla prima esperienza altri ritornano anche nell'assise consigliare crea quel mix perfetto che davvero ci lascia ben sperare perché sono tante le sfide che attendono Mola tanto il lavoro fatto in questi anni su tutti penso che la sfida del PNRR non fosse altro insomma per quelle che sono le scadenze particolarmente ristrette che attendono gli enti locali debba essere rappresentata una priorità ma abbiamo già alcune opere pubbliche importanti già giudicate dobbiamo far partire solo i lavori altre opere pubbliche da completare un servizio di igiene urbana da potenziare dopo il passaggio in questi anni al nuovo servizio nell'Aro Bariotto e alla tariffazione puntuale che è la sfida che oggi possiamo assolutamente cogliere in virtù del lavoro svolto in questi anni con i comuni di Monopoli Polignano e Conversano poi tra un po' le citiamo perché il mercato ittico il fronte mare il campo sportivo i parcheggi che fanno rima col turismo questa è già la stagione nella quale al sindaco che si insedia si chiede che stai facendo per il cartellone estivo e i sindaci che si insediano adesso hanno una manciata di settimane per fare i bilanci per riunire le maggioranze e poi chiamare i cantanti per le piazze io glielo dico è difficilissimo ce l'ha un consiglio a dare al collega che si insedia adesso lei che un mandato già ce l'ha alle spalle no non sul cartellone non sul cartellone no ma non ne do consigli in generale anche perché parliamo di una persona che ha avuto esperienze già all'interno della sese consigliare quindi veramente non ne do consigli ne accetto molto volentieri perché la vita da sindaco quotidianamente ti mette a dura prova rispetto a quelle che sono le variabili nei rapporti con la struttura amministrativa con gli enti sovraordinati io più che un consiglio diciamo lo dico una cosa noi in città metropolitana di Bari siamo molto fortunati perché al netto di quelle che sono le normali differenze di collocazione se così si può chiamare siamo abituati da anni a lavorare tutti assieme e a portare progetti che valorizzano le nostre comunità davvero in sinergia e quindi più che un consiglio li do il benvenuto perché troverà una famiglia di sindaci di colleghi che poi nel corso degli anni diventano anche amici che lavorano tutti assieme per i propri territori ed è questo secondo me un elemento che al netto non sto facendo un discorso politico ma proprio un discorso di approccio quando si fa il sindaco le bandiere vanno nel cassetto poi i sindaci lavorano dobbiamo dire con orgoglio vale molto di più nella città metropolitana di Bari perché davvero in questi anni e negli anni a venire lavoreremo bene io mi auguro che questo almeno in parte la rassicuri ma da che stiamo per giocarci l'avvicendamento su quella poltrona io mi devo giocare le novità che si sono aggiunte sullo scacchiere del centrodestra barese questa mattina tra poco facciamo vedere il servizio però le cito i virgolettati di Francesco Paolo Sisto a patto che come dire la premessa la faccio io non si parla di quello che succede in casa d'altri però siccome stiamo parlando di alleanze il quadro questo è niente primarie meglio un politico conosce meglio il territorio e il software io faccio il vice ministro mi piace il lavoro che faccio ma in politica mai dire mai e soprattutto governo Bari e regione allineate questo è il nostro progetto più che ambizioso direi è la nostra volontà sottoscrivo ho già avuto modo di scriverlo privatamente a Francesco Paolo al vice ministro sottoscrivo ogni parola questo è è un ottimo punto di partenza è la dimostrazione di quello che ho provato a dire sinteticamente prima cioè che il centro-est adesso sente forte la responsabilità di dare un'alternativa credibile alla città di Bari dobbiamo essere onesti con noi stessi e con i nostri elettori non sempre il centro-est è stato all'altezza dei suoi elettori aggiungo a Bari città non lo è stata quasi mai ora però si è chiuso un ciclo Antonio De Caro non potrà ricandidarsi a sindaco di Bari la gente che fino a oggi è rimasta a guardare la gestione della città perché nessuno mette in dubbio l'affetto che hanno i baresi per Antonio De Caro personalmente mi ritengo in mio onoro di essere un suo amico pur essendo un avversario essendone avversario politico ma un dato è evidente a tutti che per 20 anni chi ha gestito questa città è stata sempre la solita cerchia di persone questo vale per le aziende pubbliche questo vale per le consulenze professionali per gli incarichi apicali nelle aziende per le cabine di regie che sono state fatte di volta in volta per affrontare i singoli temi della città c'è stata una parte della città che è stata coinvolta per 20 anni c'è stata tutta un'altra parte di città che è stata la finestra è stata a guardare a questa parte noi dobbiamo rivolgerci per dar loro un'alternativa continuando su quello di buono che è stato fatto fino adesso perché nessuno deve andare con lanciafiamme questi atteggiamenti del passato secondo me sono sbagliati bisogna continuare su quello che di buono c'è e su quello che di buono è stato fatto migliorandolo e dando a Bari un'alternativa credibile e che possa davvero segnare un cambio di pagina meglio se dal civismo meglio se dalla cantiera della politica basta civismo basta avventure ha detto Francesco Paolo Sisi diciamo che non mi voglio dilungare sul tema delle avventure perché io personalmente sono stato protagonista delle primarie che poi videro vincere un candidato che era stato per tanto tempo nel centro-sinistra ricordiamo tutti anche l'intervento di molti elettori del centro-sinistra che alla Fiera dell'Evante anziché votare per me o per Filippo votarono per questo candidato ricordiamo anche l'epilogo di quella campagna giustamente i cittadini baresi ci hanno detto quando volete fare esperimenti alla Frankenstein andate in qualche laboratorio a noi interessa la politica a noi interessa la coerenza a noi interessa un messaggio politico chiaro è quello che noi abbiamo il dovere di dare ai cittadini chiarissimo chiarissimo l'ultima e poi ci giochiamo l'avvicendamento con il servizio del nostro Flavio Insalata consigliere stasera è circondato da tre primi cittadini vorrebbe chiudere il quartetto o ci sta pensando io ne ho presa larga non posso dire a Bari come si dice da dove l'ha presa l'ha presa da molto lontano diciamo così posso rispondere che per me essere seduto a fianco ad amici colleghi e primi cittadini come quelli che ci sono in questo studio è solo motivo di onore e di orgoglio io poi l'ho ripetuto l'ho detto tante volte la politica sconta delle sue liturgie che vanno osservate e seguite è evidente però che ciascuno di noi se fa questo mestiere se fa politica è perché è dentro una passione che non può spegnere la mia città io la porto tatuata sulla pelle per me Bari io quando vado fuori qualcuno mi dice anche che sembro un pazzo quando parlo di Bari parlo come della mia innamorata di mia mamma di mia sorella del mio tutto quindi se hai una passione un amore così forte per la tua città quale che sia il ruolo che poi i cittadini ti affideranno non puoi tirarti indietro così è direi che basti avanzi per capire a che punto stiamo e allora io ringrazio il consigliere grazie a voi che restituiamo alla serata e ci traguardiamo al prossimo blocco con le parole di Francesco Paolo Sisto di questa mattina e poi ricominciamo Bari 2024 e le regionali 2025 Francesco Paolo Sisto presenta il coordinamento cittadino di Forza Italia e fissa i prossimi obiettivi sicurezza igiene opere pubbliche culture welfare al centro del programma del vice ministro della giustizia che non ha risparmiato qualche stoccata l'attuale sindaco Antonio De Caro Forza Italia riparte riparte nel senso che si organizza in chiave amministrative 2024 una nuova formazione con ripartizione di compiti altamente specializzati uomini e donne giovani e meno giovani ma sostanzialmente un grande entusiasmo vincere a Bari come è accaduto in tante altre città ancora a Brindisi significa ovviamente aprire la strada verso la regione qui sono una città che si manifesta sempre meno sicura con una tolleranza purtroppo della insicurezza questa è la cosa più grave ci si abitua alla insicurezza una città che ha bisogno anche di più igiene di più attenzione magari qualche ballo in meno qualche social in meno potrebbe essere utile per i baresi una città che ha bisogno di opere pubbliche il candidato dovrà venire dalla politica e non dalla società civile per non ripetere l'errore del 2019 sul nome invece ancora nessuna indiscrezione il nome del candidato deve essere un candidato non solo di qualità ma anche vincente le due cose devono andare insieme mi sembra che l'avventura del civismo non abbia dato grandi risultati anzi quindi cerchiamo all'interno delle forze coerenti della maggioranza e delle forze di maggioranza abbiamo ovviamente un numero di persone e di scelte veramente di grande qualità io sono convinto che lentamente ma inesorabilmente da una grande squadra verrà fuori un grande candidato eccoci qua e dai potenti mezzi della rete accogliamo Giuseppe Carrieri da questa mattina ufficialmente responsabile per le amministrative 2024 di Forza Italia bentrovato avvocato bentornato al labirinto buonasera come è prime 12 ore da responsabile amministrative l'aria è già bella frizzante l'avvocato Sisto un identikit l'ha già tracciato meglio se un politico basta con con le avventure del civismo ce l'ha confermato Fabio Romito poco fa a che punto stiamo? stiamo che dobbiamo cominciare un lavoro enorme perché dobbiamo occuparci del capologo di regione di una città che è stata governata 20 anni dal centro-sinistra secondo noi abbastanza male e siamo che dobbiamo fare un lavoro difficile duro complicato programmatico dobbiamo trovare soprattutto le competenze i candidati dobbiamo riavvicinarci alla città ascoltare i bisogni prioritari della città che sono tanti li conosciamo abbastanza bene ma abbiamo bisogno di conferme e quindi abbiamo davanti una lunga strada che non sarà facile perché ripeto noi lavoriamo per il capologo di regione ci proponiamo di amministrare il capoluogo di regione e dobbiamo farlo con serietà con competenza e con caparbietà perché veniamo da 20 anni dove si sono molto radicati in questa città alcuni poteri forti e si sono radicati alcune persone che difficilmente ci lasciano campo quindi insomma il viceministro ha fatto un investimento importante ha ricostruito completamente il direttivo cittadino tutte persone nuove tutte persone che hanno esperienza però non si sono mai occupati in prima persona diciamo di amministrare il partito a Bari è una sfida importante e noi siamo abbastanza pronti però il cammino è molto molto difficile ma è anche molto molto rapido perché come dire 9 giugno 2024 che quella pare essere la data dell'election day con l'europea e poi tra poco ci diciamo anche quanto sposti questo gioco di fasi comunicanti primo termometro di quanto sia complicato voi sulle gare del PNRR quante ne avete varate e quanti esperti avete esperti pochi perché dall'agenzia della coesione è arrivata solo una risorsa rispetto a quello che attendevamo stiamo lavorando su tre progetti di rigenerazione urbana una scuola dell'infanzia una forestazione urbana assieme alla città metropolitana di Bari e un intervento che riguarda un ulteriore scuola più un alloggio popolare per il bando Pinqua e il progetto di piani urbani integrati quindi si tratta di sei interventi molto importanti che riguardano sia l'edilizia scolastica che la rigenerazione urbana della nostra città in particolar modo su due zone molto ma molto sensibili per noi molesi ma anche per chi non frequenta quotidianamente Mola mi riferisco alla zona nord di Mola quella interessata dalle cosiddette villette a mare e quella sud sulla ciclabile Molacozze quindi collegamento con la frazione mentre piani urbani integrati riguarda invece un intervento nella frazione di San Materno quindi la frazione collinare Voi come state vensi in quel di noi cattolo con le gare del PNRR? Ma gli assi sono molto simili stiamo definendo il progetto per procedere sui piani urbani con una zona polifunzionale che ci permetterà di spostare il mercato finalmente dopo 30 anni quindi realizzeremo un mercato nuovo adeguato alle norme vigenti un'area polifunzionale un parco urbano per grandi eventi grandi concerti lo stesso vale per l'asilo stiamo bandendo per l'asilo nido un secondo asilo nido noi abbiamo attivato nel precedente mandato il primo a noi cattoli in assoluto stiamo bandendo un importante intervento per adeguare la fogna bianca questa è una cosa che io ho l'impianto di fluviare di fogna bianca che vorrei precisare perché effettivamente con i nuovi fenomeni piovosi i nostri impianti le portate degli impianti di fogna bianca sono insufficienti quindi noi avevamo candidato per un milione e due un rifacimento un adeguamento e quindi adesso stiamo bandendo così come interventi fondamentali su quattro scuole di efficientamento energetico quindi quattro scuole di due comprensivi e altri interventi di coimentazione sui lastrici quindi anche stiamo definendo strade per strade sulle strade principali del paese insomma sono tanti gli interventi in cantina allineati sui tempi e con pochi esperti perché quelli ancora peggio rispetto ancora peggio rispetto a Molo di Bari perché noi abbiamo ottenuto a fatica una unità dal fondo di coesione che è andata via perché aveva una idoneità in una gradatoria per cui stiamo bandendo la procedura si è chiusa proprio in questi giorni stiamo reperendo una professionalità per la rendicontazione di questi bandi che lo devo ricordare devono anche essere rendicontati oltre che avviati e poi candideremo un'ulteriore figura per la progettazione bandi PNRR quindi insomma dobbiamo anche impegnare i nostri uffici le nostre risorse per reclutare personale c'era stato detto che l'aiuto sarebbe arrivato dal governo allo Stato e questo purtroppo non è avvenuto io la volevo rassicurare in qualche maniera però non so se ci sia riuscito non le posso chiedere come siete messi voi perché lei si deve ancora insediare altra deroga e sindaci che arrivano prima devono vedere le carte poi possono cominciare a prendere iniziativa però voi avete il piano traffico da varare gli strumenti urbanistici invece ce li avete sono solo aggiornati? Abbiamo un PRG è stato approvato il documento preliminare programmatico del Pug dall'amministrazione uscente proprio un mese prima che si procedesse alle elezioni un DPP probabilmente da guardare da approfondire ce l'abbiamo in ogni caso andremo verso il Pug quella è una strada obbligata da cui ovviamente non ci possiamo e non ci vogliamo sottrarre per quanto riguarda comunque la situazione del risorse della macchina se guardiamo la situazione della macchina voi avete perso una serie di risorse negli uffici abbiamo perso cinque risorse negli ultimi mesi nel solo ufficio tecnico per cui dal punto di vista del personale erediterò una situazione che è drammatica poi hai sei mesi durante i quali non puoi assumere perché le risorse che sono andate via potrebbero tornare indietro non sarà una situazione facile da gestire abbiamo comunque una sola risorsa che si occupa di bandi PNRR appena insediato avrò parecchio lavoro da fare parecchio lavoro da fare voi avete la zona industriale che è ad un passo dal casello e lei ha sempre detto questa è un'opportunità che noi abbiamo sfruttato troppo poco finora assolutamente sì quello è stato diciamo il mio cavallo di battaglio durante la campagna elettorale e il tema principale è il lavoro e ad Acquavio abbiamo questa opportunità che è più unica che rara abbiamo la zona industriale che a fianco al casello autostradale non è stata sfruttata negli ultimi 10 anni negli ultimi 13 anni non c'è stato l'insediamento di una sola nuova ma perché bisogna portare i servizi o perché non c'è promozione no, la zona industriale è assolutamente fornita e il problema è che l'amministrazione evidentemente non è stata abbastanza attenta al tema del lavoro non c'è stata l'assegnazione di un solo suolo in 10 anni che è una cosa abbastanza strana quantomeno lasciatemi dire che c'è stata poca attenzione alla zona industriale di Acquavio delle Fonti mi riprometto invece di metterla al centro di quella che è l'azione amministrativa perché ovviamente credo che il lavoro sia il tema fondamentale per garantire una società più prospera e per garantire un futuro ai giovani della città e allora chiudiamo il giro dei primi cittadini lo facciamo ascoltando Pino Marchionna a Brindisi primo giorno di scuola nelle parole al nostro Davide Cucinelli così diamo il tempo al nostro fronte tecnico di riportare con noi il buon carriere che vive l'otto insieme a noi come si diceva una volta ma a tra poco dopo Pino Marchionna primo giorno di lavoro oggi primo giorno di scuola vorrei dire sono ritornato sui banchi di scuola e è andato bene nel senso che c'erano tre urgenze assolutamente da affrontare immediatamente che erano la questione dei lavori allo stadio per rendere agibile lo stadio per il prossimo campionato di Serie C c'era la questione del dormitorio che è un problema che si trascina da molto tempo e infine anche quello del ripristino e delle riaperture del centro degli anziani diciamo che con la collaborazione fattiva dei dirigenti e degli operatori comunali insomma mi sono molto tranquillizzato le cose sono assolutamente instradate per una soluzione rapida ed efficace e quindi diciamo come primo giorno mi posso considerare soddisfatto sicuramente sono primi giorni importanti anche perché ci saranno delle scadenze già a luglio sul bilancio che è un tema molto delicato per il Comune di Brindisi rispetto a questo sicuramente dai prossimi giorni dedicherò tutte le mie attenzioni perché come sapete c'è in piedi un piano di riequilibrio che prevede alcune ipotesi che noi non abbiamo condiviso quella come quella del ticket aeroportuale che potrebbe comportare alcuni problemi all'ipotesi di sviluppo turistico della nostra provincia e di tutto il Salento da questo punto di vista ho già avviato un colloquio molto fruttuoso col dirigente preposto nei prossimi giorni approfondirò questi ragionamenti perché ho idea che nella prossima settimana andrò a interloquire direttamente in ambito governativo sulle possibilità opportunità che si possono determinare per risolvere diversamente questo problema ovviamente questi sono giorni possiamo dire anche ore importanti per la squadra di governo che tempi vi siete dati per avere la giunta pronta al lavoro non ci siamo dati dei tempi anche se consideriamo che è necessario fare presto e fare bene devo dire confermare ancora una volta che le vicende interne alla coalizione che mi ha sostenuto sono assolutamente normali c'è molta serenità c'è molta soddisfazione per il risultato ottenuto anche perché ribadisco noi abbiamo portato in consiglio su 20 consiglieri almeno una decina sono di prima nomina ci sono anche molte donne quindi siamo molti soddisfatti di questo risultato e intendiamo ovviamente valorizzare appieno questo capitale umano che siamo riusciti a portare all'interno delle istituzioni con iniziative e responsabilità adeguate a queste nuove rappresentanze che abbiamo portato in consiglio comunale sono molto sereno da questo punto di vista presumo che in una settimana 10 giorni al massimo dovremo avere la nuova giunta avete già un'idea sul numero degli assessori che potranno esserci e se ci sarà anche la possibilità di avere qualche tecnico io sulla questione dei tecnici onestamente al momento non ho indicazioni precise presumo di poter ragionevolmente escludere questa possibilità per quanto riguarda gli assessori credo che rimarremo intorno al numero di 8 che è quello che era stato storicamente il numero degli assessori con ovviamente la dovuta rappresentanza femminile che peraltro è anche fissata per legge magari potremmo anche superare il minimo diciamo previsto e fare qualcosa in più naturalmente questo è un gioco di incastri e di opportunità che dovremo valutare insieme a tutti gli altri componenti della nostra coalizione ovviamente non sono mancate le polemiche al suo arrivo la vicenda Santa Teresa ma al di là del specifico tema si aspettava comunque di avere da subito una pressione così dalle opposizioni ma devo dire intanto la vicenda Santa Teresa ha una sua specificità che vorrei chiudere una volta per tutte nel senso che era un riconoscimento ad alcuni lavoratori che secondo me si sono particolarmente distinti nell'opera di risalita di sanamento dell'azienda dopodiché quando il Presidente mi ha proposto il problema di opportunità politica in riferimento al fatto che io stavo per andare via che arriverà un nuovo amministratore ho immediatamente condiviso quindi ho immediatamente sospeso quelle iniziative per quanto riguarda invece l'atteggiamento dell'opposizione io personalmente sono una persona sempre aperta a tutti gli apporti da qualunque parte che si vengano naturalmente devono essere apporti positivi e propositivi che spero col tempo arriveranno probabilmente in questo momento è stato come dire più il momento emozionale emotivo immediatamente dopo il risultato posso anche pensare che insomma qualche delusione qualche frustrazione di troppo abbia come dire consigliato di dire qualche parola in più ma da questo punto di vista non è un problema io sono sempre aperto a tutti gli apporti e a tutti i contributi concludiamo con un tema un po' più leggero siamo a ridosso dell'estate ovviamente Brindisi è meta anche di turismo di rientro di tanti giovani il tempo è poco le casse ovviamente sono limitate ma ci sarà la possibilità di avere comunque qualche evento qualche iniziativa per questa estate brindisina per lo meno nella sua seconda parte sì credo di sì ho intenzione di sentirmi con i rappresentanti soprattutto con il direttore artistico della fondazione Verdi che soldamente per il comune di Brindisi svolge questo ruolo ragionevolmente qualche cosa la faremo naturalmente molto dipenderà dall'esito di questo incontro governativo per il piano di il piano di riequilibrio perché è ovvio che la questione economica la fa da padrone da questo punto di vista ottimista comunque sì assolutamente io sono sempre ottimista nonostante i tanti problemi vedo molto interesse molto attenzione molto entusiasmo probabilmente è tipico delle nuove esperienze però intanto intendo sfruttarla pieno grazie al neosindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna così parlò primo Marchionna Pino Marchionna ed era anche il primo giorno di scuola del neosindaco di Brindisi ci fermiamo e poi l'ultimo giro di campo per capire da dove riparte la lista azzurra nel capoluogo tutte le opere da completare dal fronte mare al campo sportivo al mercato ittico e poi c'è questo finale di mandato che è anche come si comincia a costruire su Baricità poi abbiamo tutta l'agenda in quel di Acquaiva tra un attimo state con noi eccoci qua terzo ultimo blocco di questa 199esima di Lavirinti sempre in diretta e ci stiamo traguardando al finale intanto per fare un po' di agenda vorrebbe essere ricordato alla fine di questo secondo mandato come il sindaco come il sindaco che ha chiuso finalmente dopo decenni tutte le pianificazioni che servono a un territorio per svilupparsi in maniera sostenibile come il sindaco che ha realizzato opere pubbliche importanti anche in continuità rispetto al passato per valorizzare sempre più la nostra mola e per farla diventare assieme agli operatori turistici e culturali una delle mete turistiche della nostra regione non fosse altro insomma anche per la posizione geografica che mola a baricentrica rispetto sia al copologo di regione che al sud-est barese che alla Valle d'Itra e soprattutto cosa più importante per un sindaco lo diceva il collega di Acquaviva poco fa come un sindaco che al netto di quelle che sono le differenze i distinguo riesce a creare un senso di comunità forte e credo che la politica questo momento storico in particolar modo deve avere un ruolo attivo per questo i dati sull'affluenza insomma parlano chiare e a tutti i livelli fino anche alle amministrative quindi la nostra responsabilità è ancora maggiore da questo punto di vista rispettiamo le idee di tutti ma impegniamoci in primis a creare quel senso di comunità che poi serve alle città che sono composte da persone da esseri umani a mettersi in cammino Lei ha già messo sul tavolo un'agenda precisa intanto la tariffazione puntuale sull'igiene urbana e poi il mercato ittico il frontemare il campo sottotivo e i parcheggi beh sì abbiamo approvato il piano urbano di mobilità sostenibile adesso partiamo con le prime due iniziative attuative in particolar modo con i parcheggi a sosta tariffaria e con la zona traffico limitato abbiamo aggiudicato i lavori per la realizzazione del primo park and ride sulla nostra città provenendo da Mola d'Ord mi riferisco al parcheggio di Corsi Italia abbiamo completato già i lavori al mercato ittico al campo sportivo Catutti di Superga al palazzetto della sport in queste settimane in questi mesi insomma prima della fine dell'anno completeremo i lavori di riqualificazione del porto siamo impegnati in queste settimane con la regione per dare soluzione al problema del spostamento dei sedimenti della sabbia propedeutici poi a quella che oramai è diventata un'opera quasi impossibile che è quella di alcune opere pubbliche importanti come l'assi attrezzato di via Palosesso il sottopasso pedonale di via Matteotti per ricucire due parti della città a cui dobbiamo guardare con attenzione ma anche lì nel primo caso abbiamo già giudicato i lavori per l'altra opera il sottopasso pedonale siamo lì per pubblicare la gara e poi naturalmente insomma siamo fortunati da questo punto di vista perché abbiamo già programmato gran parte della stagione culturale estiva ma questo insomma sarebbe stato fatto al di là di chi avesse vinto le elezioni e quindi abbiamo già i primi appuntamenti della proposta insomma culturale poi voi avete l'esperienza del SAC è una sorta di cartellone condiviso che permette di non sovrapporre le date di lavorare ad un biglietto unico dei trasporti che poi è quello che rende più semplice al turista che arriva spostarsi è quello che permette di fare squadra quello è un modello che regge che non hanno avuto una buona sorte però mi fa piacere che quello spirito di collaborazione di cui parlavo prima ci abbia fatto diventare forse uno dei pochi se non l'unico SAC che attualmente è funzionante oggi il SAC Mari tra le mura che ci vede collaborare con i comuni di Conversano Rutigliano e Poliniano a Mare a Mola gestisce il primo infopoint turistico gestisce le visite equitate anche in periodi non propriamente turistici ci consente di aprire luoghi come l'ipoggio di piazza Risorgimento che è stato riconsegnato alla città in questi anni e di offrire anche un modello di mobilità sostenibile fra i quattro comuni che credo che in un'ottica di collaborazione di turismo diffuso possa essere una chiave importante per come dire promuovere in maniera sinergica i nostri territori domanda di backstage so che questo era già un blocco istituzionale però gliela voglio fare lo stesso ma quando c'è stato quel tour de force negli apparenti insomma sull'endorsement dei 5 stelle ha chiamato il collega da coordinatore con Raimondo ci sentiamo quotidianamente non fosse altro perché condividiamo alcuni percorsi amministrativi come quello del piano sociale di zona che è un rapporto di amicizia è stato credo un elemento che ha favorito più me che insomma il candidato avversario perché quando si mette in discussione un percorso di coerenza durato 5 anni è una campagna elettorale promossa giustamente per portare avanti quelli che sono gli obiettivi gli ideali anche il metodo di governo del movimento 5 stelle lo si baratta per un posto al solo o solo per sconfiggere l'avversario credo che questo insomma sia stato percepito da buona parte degli elettori ho vinto per 70 voti di differenza ma in realtà se sommiamo quelli che sono erano i voti del primo turno dei tre candidati sindaci che si sono apparentati con il mio risultato abbiamo un differenziale di quasi 800 voti cioè di 800 persone visto che l'affluenza si è a mola in maniera quasi sorprendente si è mantenuta quasi inalterata fra primo turno e ballottaggio che hanno votato in un modo nel primo turno e che hanno cambiato idea nel ballottaggio io credo che poi alla fine la coerenza la chiarezza è una proposta politica sicuramente discutibile non condivisa da tutti ma proprio quello è il bello ma portata avanti con serietà sia alla fine la soluzione più giusta l'elettore lo sa Acquajio non ha problemi di debito interni al bilancio la cassa che trova però è di fatti ingessata da alcuni accantonamenti come si lavora con una cassa ingessata? questa è una bella domanda bisognerà cercare di agire per liberare risorse abbiamo 8 milioni e mezzo di accantonamenti per il contenzioso e altri 7 passa per siamo all'incirca sui 15 milioni di accantonamenti per i crediti non esigibili bisognerà fare un esame abbastanza approfondito nel bilancio e cercare di trovare soluzioni per liberare parte di quelle risorse che oggi sono ingessate a chi cosa sta pensando come primi elementi? come primi interventi ne abbiamo decoro urbano si chiede ai sindaci che si insediano quello del decoro urbano è uno dei primi e dei più grossi problemi che abbiamo ad Acquaglia delle Fonti Acquaglia è una groviera per le strade abbiamo diversi cantieri che bloccano il traffico del paese c'è un cantiere giù nel paese nel centro storico che è stato aperto dal 24 di febbraio è stato eseguito uno scavo e non si capisce per quale motivo il cantiere non va davanti abbiamo un cantiere su Via Maselli Campagna che è un'arteria importante d'ingresso al paese che prevedeva un intervento di circa sei mesi ma siamo ancora molto lontani dalla chiusura del cantiere abbiamo purtroppo una serie di cantieri che partiranno per interventi dell'acquedotto pugliese per la sostituzione di tronchi ammalorati della fogna abbiamo se parliamo di decorurbano purtroppo il piano del verde al palo quindi la situazione del decorurbano di acquaviglio è veramente disastrosa saranno delle prime emergenze da gestire prendendola veramente di petto perché altrimenti la vedo veramente dura o la si prende di petto o non se ne esce a voi che avete un po' più di esperienza anche politica non che i sindaci non ce l'abbiano è sempre coordinatore quindi a lei tocca anche fare la tara di quello che si muove le cito un virgolettato del vicepresidente nazionale una parte del civismo di Emiliano ha delle ambiguità in alcuni casi lo si trova a destra queste ambiguità vanno superate la dobbiamo prendere come un veto cioè come una discriminante per la costruzione su bari città perché poi devo chiedere a Carrieri da dove riparta la lista degli azzurri no 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 è un dato di fatto perché questo l'abbiamo riscontrato ad Altamura ad Altamura Emiliano ha festeggiato in piazza con con il parlamentare della Lega con il parlamentare della Lega ecco dobbiamo capire noi siamo in maggioranza con in consiglio regionale ecco con Michele Emiliano dobbiamo capire ecco con quale parte del partito democratico dialogare le ambiguità non fanno bene lo si diceva prima ai cittadini perché si possa costruire un progetto serio ecco partire da Bari cercare di comprendere che cosa si voglia fare e le forze alternative al centrodestra e quindi il civismo di centrosinistra e quindi i partiti di centrosinistra noi abbiamo provato a dialogare ad Altamura per esempio con Sinistra Italiana che poi alla fine non è riuscita a depositare la lista ma è confluita in una lista civica che si è qualitata con il nostro candidato sindaco ecco noi riusciamo a farlo il movimento adesso è maturo a Monopoli anche avete dialogato con la sinistra ma lontani dal partito democratico ecco per questo motivo noi chiediamo ecco di poter meglio rappresentare le esigenze della città ma con chi si identifica scoprite le carte non date per scontato che noi ci saremo perché perché non si coalizzi la forza politica per ottenere il risultato come dicevo prima per vincere a tutti i costi l'identità politica è fondamentale per dirigere l'elettore dirigere il cittadino verso quello che è un progetto che può decidere di scegliere decidere di selezionare questo diceva immagino il vicepresidente turco ho letto io glielo ho letto ho letto questa dichiarazione e quindi in buona sostanza non è un veto stiamo chiarendo che il Movimento 5 Stelle non solo per Bari 2024 ecco per il futuro prossimo vuole dialogare si vuole confrontare con forze politiche che abbiano idee chiare e che si collochino in una direzione specifica ma alla convenzione del centro-sinistra ci andate cioè a quel tavolo vi sedete o loro trattano per conto del centro-sinistra classico e poi vengono a parlare con voi noi ripeto incontriamo i nostri parliamo sempre per Bari noi parliamo con i nostri per cercare di capire un po' come si è messo rispetto ai programmi e a quel che abbiamo fatto in opposizione in questi cinque anni dopodiché inizieremo il dialogo quindi al momento non ci sediamo al momento la convenzione è del centro-sinistra perché poi alla fine si possa definire in primis all'interno con i nostri con gli uscenti per poi confrontarsi chiarissimo direi che il quadro per ora ha poche sfumature da questo punto di vista meno di un anno per far la lista diceva Fabio Romito candidato meglio se entro la fiera dell'Evante condivide? Posso abusare prima di rispondere alla domanda perché Brindisi è stata una situazione eclatante e bisogna fare i complimenti al sindaco che è stato scelto da Forza Italia dal coordinatore regionale di Forza Italia e abbiamo aperto con Gianluca Quarta che è il vostro primo degli eletti e al quale abbiamo chiesto esiste un modello Brindisi e ci ha detto esiste esiste un modello Brindisi quando si trovano candidati così grazie a politici che fanno scelte oculate e quindi io le devo chiedere a Bari si trovano candidati così? Siamo il primo partito a Brindisi e contiamo di essere tra i primi partiti anche a Bari ad Altamura siamo stati il primo partito siamo stati il primo partito in tante realtà locali Lega citava quella divaricazione nel centro-vestre di Altamura ma la questione di Altamura è molto complessa non è possibile accettare le fotografie che abbiamo visto post-voto dal nostro punto di vista viene ricordato il governatore della Puglia che abbraccia e bacia parlamentari leghisti è una cosa difficilmente comprensibile ma credo che sia più comprensibile per i baresi ma credo che avremo modo nei prossimi mesi di parlarne avere una classe dirigente cittadina affidabile e competente se i cittadini vedono che si propongono persone che sono affidabili e competenti credo che diano il loro consenso e poi con delle priorità che noi abbiamo sono state elencate stamattina citavate sicurezza cultura igiene urbana il viceministro le ha indicate lui è il commissario cittadino di Forza Italia credo che queste siano le priorità di questa città qualche ora fa è stata gambizzata una persona in un quartiere di Bari qualche giorno fa in pieno centro non in periferia sono stati massacrati di botte dei ragazzi solo perché stavano camminando nel pieno centro di Bari e queste cose si ripetono noi abbiamo spaccate quotidiane abbiamo una criminalità latente che si è reimpossessata del borgo antico sono situazioni per noi inaccettabili quindi la priorità di questa città è sicuramente il tema della sicurezza urbana su cui il sindaco ha delle responsabilità enormi visto che Bari conta circa 650 poliziotti locali armati che dovrebbero assicurare anche la sicurezza urbana invece sono io su questo sentirei un po' di smorzare queste responsabilità del sindaco che sebbene siano circoscritte all'ambito della polizia locale abbiamo le prefetture abbiamo i comitati provinciali per l'administra di sicurezza quando si dice che il sindaco possa fare tanto per la sicurezza non si dice tanto la verità questo lo voglio lo voglio precisare per cui quando si parla di campagna elettorale e quando si parla di sicurezza bisogna capire che intervengono più configurazioni quella del sindaco quello del sindaco è un ruolo che prevede il coinvolgimento della prefettura dell'ordine dicevo del comitato dell'ordine sicurezza ma il sindaco da solo non può sconfiggere il crimine organizzato questo va detto ai cittadini per correttezza per correttezza diciamo ai cittadini di che regalerò al sindaco un memorandum su quali sono i poteri del sindaco lo conosco benissimo articolo 54 e testo unico degli enti locali mi pare che lo riconosca molto bene perché il sindaco ha enormi poteri in tema di sicurezza confondono e questa difesa di ufficio del sindaco di Bari la dice già tutta su quello che farà il Movimento 5 Stelle credo che parli dal sindaco nei prossimi mesi a Bari già lo sappiamo mi scusi stavo parlando come sindaco la sicurezza urbana viene confusa spesso con l'ordine pubblico l'ordine pubblico è di competenza del prefetto e delle forze di polizia la sicurezza urbana è competenza anche del sindaco di una città e il nostro sindaco il sindaco di Bari ha completamente omesso di esercitare questi poteri abbiamo un problema enorme di igiene di pulizia di questa città noi abbiamo sentivo tarifazione puntuale che sono parole qui extraterrestri a Bari noi siamo ancora al 40% di raccolta differenziata conferiamo ancora il 60% dei rifiuti in un buco come facevano i romani che la discarica abbiamo un problema di infrastrutture e le infrastrutture di questa città sono importantissime noi abbiamo problemi di strade di mobilità sentivo pari di mobilità sostenibile abbiamo un problema del porto che non si è avvicinato alla città è una cosa di sostanza abbiamo dei problemi enormi che riguardano questi temi che sono per noi le priorità di questa città non si può sviluppare questa l'ha fatta tutto ad un fiato ci conferma che è già campagna elettorale neanche il tempo di rimettere a posto gli scatoloni abbiamo già preso l'onda lunga le posso chiedere quanto influisca il gioco di vasi comunicanti con le europee cioè serve un candidato alle europee di Bari città che faccia tandem con il candidato a primo cittadino Forza Italia fa la lista alle europee guardate anzi guarda io nel 2019 ero nei seggi elettorali quando si votava sia per le europee che per i comuni e ci ricordiamo quanto furono chiudemmo i seggi con il centro-destra stravincenti alle europee aprimmo i seggi per vedere a Bari che era successo e troviamo una situazione esattamente rivoltata quello fu l'anno del cappotto della Lega alle europee e poi invece assolutamente sì per cui io non abbinerei i due momenti neanche nella gestione della campagna elettorale forse quello sì ma noi dobbiamo trovare ribadisco persone affidabili e competenti che possono dire alla città che noi siamo pronti per governare questa città siamo capaci di governare questa città abbiamo le idee chiare per governare questa città sta già facendo scouting? prego sta già facendo scouting? ma noi il viceviso lo ha detto noi abbiamo le nostre porte spalancate non aperte vogliamo rinnovare questo partito vogliamo persone che in qualche modo amino questa città però non si sono già confrontate negli anni con l'amministrazione di questa città vogliamo completamente rinnovare il partito e abbiamo tante persone che già si stanno avvicinando abbiamo fatto stamattina il nuovo direttivo cittadino sono 20 persone moltissime donne tutte giovani tutte persone che hanno voglia di impegnarsi per Bari per questa città per troppo tempo secondo me è stata scurata si è molto pensato all'effimero poco alla sostanza invece la sostanza è quella che cambia la vita delle persone così parlò Carriere candidato entro alla fiera prego candidato entro alla fiera come diceva Romito ma questo questo sarà credo che sarà difficile perché Bari il capologo di regione lo scacchier nazionale si devono incastrare una serie esatto questo non lo so l'importante è che sia una persona che già conosce la macchina amministrativa una persona che ha già esperienza politica perché non possiamo catapultare a pochi mesi dalle elezioni perché ormai mancano pochi mesi di elezioni una persona che completamente è avulsa da questa realtà così stiamo già restringendo il campo io ormai sto andando per deduzioni poi tre indizi ma questo l'ha già detto il vice ministro se tre indizi fanno una prova sul tavolo del sindaco di Noi Cattaro domani mattina che c'è? tantissime cose dobbiamo dobbiamo definire alcuni progetti importanti dobbiamo portare avanti anche il piano del fabbisogno io mi sono molto impegnato nel primo mandato per rimpolpare la macchina amministrativa questo è fondamentale noi parliamo di sicurezza urbana parliamo di PNRR possiamo parlare di qualsiasi cosa ma se poi la macchina non regge ma se la macchina amministrativa non funziona e se il personale è lì dove ci sono problematiche relative anche alle finanze e mi rendo conto che sia difficile noi abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti così come si suol dire e devo dire che per in ottica di PNRR di finanziamenti di bandi io sono stato precursore perché avevo introdotto all'interno della macrostruttura amministrativa una figura distaccata dai lavori pubblici deputata al reperimento dei finanziamenti quindi già in questa prima fase noi abbiamo reperito abbiamo intercettato tanti finanziamenti ma avete i bilanci da chiudere in queste devo dire che noi siamo i bilanci li abbiamo già approvati e siamo in fase ci confrontavamo su questo in fase di approvazione del rendiconto che peraltro prelude come dicevo all'assunzione del personale se non si approva il rendiconto questo per un principio contabile non è possibile fare alcun tipo di assunzione dopodiché chiaramente noi ci avviamo verso percorsi importanti adesso stiamo adeguando questo per l'urbanistica come diceva anche il sindaco ed è un processo fondamentale si parla solo di opere pubbliche ma non si parla di processi urbanistici che prevedono lo sviluppo la progettazione della città stiamo adeguando il nostro piano regolatore alla vincolistica del PPTR questo è fondamentale per quel che attiene al fenomeno particolare che viviamo in questi giorni quindi vincolistica di distanze dalla lama costruzioni adeguamenti e realizzazioni di arie che possano essere drenanti per diciamo scongiurare pericoli per la pubblica incolumità quindi tutte queste cose sono fondamentali e un sindaco è chiamato a fare i salti mossali lei c'era un consiglio da dare al collega che si insedia in queste ore io glielo stavo per dire ecco di fare una valutazione seria del segretario generale della segreteria generale perché effettivamente è il notaio del del sindaco dell'amministrazione comunale il consiglio è guarda chi ti mette in casa come? il consiglio è guarda chi ti mette in casa e fatti una squadra che regga ma ecco questo è fondamentale perché possiamo dire tanto possiamo parlare di colori pulici ma se poi la macchina non gira no 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 è fondamentale e soprattutto questo è importante la compattezza la 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 garanzia di avere accanto a sé una squadra che sia coraggiosa per poter faccio un esempio cambiare un funzionario che magari non operava così come doveva è necessario che il consigliere comunale l'assessore abbia le mani libere e questo la rotazione dei dirigenti è sempre difficilissima ed è prevista anche dal piano di trasparenza anticorruzione quindi molte volte ecco i consiglieri comunali ingabbiano il sindaco in queste procedure quindi questo è il mio consiglio provare ad avere le mani libere su questi processi abbiate coraggio e il consiglio del sindaco c'è un aspetto della sua mola che ha scoperto in questa campagna elettorale io questa non la sapevo questo mi mancava questo aspetto di mola ma no nulla in particolare che cosa gli ha insegnato questa campagna elettorale che la seconda è quella della maturità la prima è sempre la la rincorsa al questa campagna elettorale mi ha insegnato più che insegnato mi ha riconfermato una cosa importante che non bisogna mai dare per scontato quello che è il nostro rapporto quotidiano con i cittadini e non bisogna mai trascurarlo abbiamo passato una campagna elettorale a maggior ragione insomma nella doppia veste sia da sindaco che da candidato sindaco davvero in mezzo alla gente come si dice in questi casi ma materialmente in mezzo alla gente e credo che la migliore ricetta sia quella davvero non spezzare quel cordone quel filo sottilissimo che si basa insomma quotidianamente sulle scelte che siamo chiamati a fare con la città anche una scelta difficile dolorosa complicata complessa perché amministrare una città è materia particolarmente complessa io ti fido da chi semplifica il tutto della serie ora arriviamo e sistemiamo tutto i procedimenti ogni procedimento ha una sua particolare complessità ma si ragiona meglio si risolve meglio si fa comprendere meglio se c'è questo contatto diretto con i cittadini ed è quello che insomma ci deve guidare in questi cinque anni migliorando anche perché insomma in questi primi cinque anni è stato particolarmente complicato abbiamo lavorato per tenere in alcuni frangenti le persone dentro casa piuttosto che far riuscire purtroppo con la pandemia i due anni è vero abbiamo lavorato con due anni meno consigliatura quanto l'abbiamo rassicurata fin qui poco beh non molto però però volevo ricollegarmi a quello che diceva il sindaco di Noi Cattaro sul fatto di sulla necessità di avere le mani libere devo dire che su questo questo è stato una delle mie priorità in campagna elettorale non a caso non ho ceduto alle lusinghe dell'apparentamento con l'altro candidato di centrodestra cosa che mi avrebbe semplificato il compito invece proprio per avere una maggioranza più coesa ho puntato ho rischiato il tutto per tutto ho rifiutato l'apparentamento dando così insieme un segnale di coerenza ai cittadini che credo mi abbia premiato e dall'altra parte mi ritrovo oggi ad avere una maggioranza che è sicuramente più coesa e che mi darà la possibilità di avere le mani sicuramente molto più libere e mi darà la possibilità di intervenire in maniera incisiva su quella che è la macchina amministrativa 50 secondi per chiudere come la chiudiamo io volevo dare io un consiglio al sindaco di Acquaviglia Forza Italia è il primo partito ha due consigli comunali si affidi a queste due persone che sono due persone molto capaci e molto preparate noi abbiamo ripeto la fortuna di avere il viceministro in Puglia che è il commissario anche metropolitano di Forza Italia quindi il consiglio che le do è annoti su un foglio tutte le difficoltà la burocrazia incredibile che abbiamo in questo paese perché al governo noi ci siamo perché dovremmo cercare di modificare lo stato delle cose se siamo lì soltanto per gestire una macchina che va male impedisce non fa lavorare i sindaci è inutile che siamo lì posso però capisco che io la stimolo molto però mi faccio concludere per cui il consiglio che posso dare è annotare su un foglio tutte le difficoltà e Forza Italia con il viceministro con i consiglieri è pronta a stare a fianco ad aiutarla in un progetto molto difficile che lì ha avuto il coraggio e la forza di mettersi sulle spalle perché non è stata facile neanche da qua io a vincere e il sindaco è stato bravissimo in questo provo ad interpretare l'esigenza di molti sindaci ecco il governo di centrodestra ha già declinato ha già rifiutato la possibilità per le amministrazioni comunali di utilizzare il fondone covid per equilibrare il bilancio per permetterci di utilizzare maggiore risorse cos'è il fondone covid in tre secondi un fondo messo a disposizione dal governo del governo conte per far fronte a tutte le necessità del periodo di pandemia ecco questo fondone è stato utilizzato l'anno scorso per i maggiori costi che abbiamo sostenuto per il rincaro energetico eccetera chiarissimo quest'anno ci aspettavamo di poterlo fare chiudo ci aspettavamo di poterlo fare abbiamo domandato anche come Anci di poterlo fare ci è stato risposto di no ci è stato detto che questi soldi servono al governo per fare chissà che cosa servono ai comuni siccome avete dei sindaci neoeletti aiutateli aiutateci perché è importante la mia chiosa è invece di sprecare i soldi spendiamo i soldi e forse bastano quelli che ci sono perché in questo paese purtroppo i soldi a valanga vengono sprecati e non spesi se li spegniamo meglio forse possiamo anche evitare di attingere a fondi covid a patto di non dare per scontato che quelli siano fondi sprecati non sa quelli che sono i costi energetici i costi energetici ci mettono in ginocchio ma mettono in ginocchio tutte le amministrazioni e mettete un po' di impianti rinnovabili sul vostro edificio comunale e incentivate i soldi energetici poi vanno a ricadere sulla spesa corrente e quindi sui servizi cittadini incentiviamo un po' di rinnovabili visto che fate parte di un partito che ha sempre detto ma però è come farlo in principio basta mettere un po' di pannelli fotovoltaici piuttosto che un po' di mini eolico nei loro comuni e forse evitano di avere la bolletta energetica così alta chiarissimo intanto ci dobbiamo necessariamente fermare avrete capito sarà una lunga campagna elettorale ma tra l'altro è già iniziata grazie sindaco grazie sindaco grazie sindaco fino a fine andato sempre sindaco grazie grazie innamorato grazie grazie in bocca al lupo a tutti e quattro per le comunità che guidate sette giorni saremo ancora qui intanto buonanotte grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori